Questi stessi strumenti in una fase di questo tipo diventano invece oggettivamente, al di là probabilmente dell'intenzione dei proponenti, incentivi al licenziamento, incentivi al rattrappimento strutturale, proprio quello che noi non vogliamo produrre. Abbiamo l'assoluta consapevolezza che le cose che abbiamo proposto, a cominciare dall'assegno mensili di disoccupazione, non sono una risposta strutturale alla crisi. Chi guida un paese, al di là del colore politico che rappresenta, ha il dovere di cercare risposte strutturali, di cominciare a lavorarci, ma contemporaneamente di immaginare come affrontare l'emergenza.